ciao photoshopari ciao a tutti allora oggi vi farò vedere anzi vi presenterò un filtro che è stato anzi è una galleria di filtri che è stato introdotto con l'ultima versione aggiornamento di photoshop di cosa si tratta il filtro si chiama neural filters già un'altra volta vi avevo fatto vedere qualcosa riferito a questo tipo di filtro ma oggi magari vi farò vedere alcune cose molto divertenti il filtro si trova sotto filtro neural filters e vi si aprirà questa finestra allora quello che vedete naturalmente ci sono alcuni filtri tipo pelle liscia che è fatto per poter ottimizzare la pelle dei primi piani e tutto quello che riguarda la carnagione la rimozione la rimozione degli artefatti trasferimento stile però queste sono cose che vedremo magari un'altra volta oggi vi volevo far vedere questo è carinissimo come vedete è un beta quindi che vuol dire che in fase di sviluppo non è non è ultimato quindi può essere potrà essere sempre cambiato allora noi adesso partiamo con questo e vi farò vedere il ritratto intelligente lo attiviamo come prima cosa lo dobbiamo attivare ed eccolo qua quindi come vedete ci sono alcune delle caratteristiche principali di quelle che sono le espressioni di una persona quindi la felicità la sorpresa la rabbia poi delle cose riferite al soggetto quindi l'invecchiamento lo sguardo lo spessore capelli addirittura direzione testa direzione luce ma non voglio riempirvi di nomi di cose e di funzioni senza farvele vedere ma a parte che vi potrete spassare anche voi per esempio questo qua riguardo la felicità la prima cosa da fare è quello di attivarlo come in questo caso e magari quindi andando verso destra dallo zero si rende il soggetto più felice andando a sinistra lo si rende più triste noi adesso proviamo ad estremizzare questo questo filtro riguardo l'espressione riguardo la felicità e vediamo che cosa succede eccolo qua come potete vedere il nostro il nostro il nostro uomo ora in questo momento sta vivendo è completamente felice l'occhio più aperto l'occhio più chiuso però a parte quello e questo era il filtro la felicità ma naturalmente lo possiamo rimettere a zero eccolo o addirittura portarlo all'infelicità in questo caso sarà molto più difficile perché magari eccolo perché magari all'occhio più aperto ce l'ha sempre non ce l'ha solo in questo caso quindi l'infelicità diventa più un pochettino più bruciato però insomma non è che si che si disperi la sorpresa possiamo vedere la sorpresa eccola qua quindi abbiamo anche questo qua che riguarda la eccolo che tende naturalmente ad aprire un po' la bocca e un'altra cosa è la rabbia magari sta ridendo farlo arrabbiare ma mi sa che ecco infatti c'è un'espressione strana già è sorridente no quindi ma proviamo il filtro simpaticissimo ci sono tantissime app anche per i mobile per i telefonini che parli che fanno dell'invecchiamento per il ringiovanimento scusate in questo caso attiviamolo vediamo rendiamolo più vecchio vai eccolo qua un po' di calvizie insomma magari possiamo vediamo cambiando i capelli mettendolo a minimo vediamo che cosa succede facciamo sempre tutte le prove eccolo qua l'abbiamo ancora di più magari lo facciamo un po' girare vai proviamo vediamo che succede addirittura vedete però ci sono delle dei problemi su quel che riguarda il girare oh ma ragazzi qui girano la testa quindi non so se poi qui in questo caso c'è la direzione luce rimettiamolo a posto va questo almeno questo lo rimettiamo a posto poi un'altra cosa che può essere chiarina è il fatto magari dello sguardo vediamo un attimo aumentiamolo vediamo cosa succede eccolo che cambia lo sguardo e guarda da una parte insomma è un filtro molto particolare diciamo è carino in fase di sperimentazione visto che è un beta però insomma vi può far vi può far fare qualche qualche ora di divertimento magari con le vostre foto con le foto di vostri amici o addirittura di qualcun altro oppa scusate è tutto qua questo è il filtro come vi dicevo relativo al ritratto con i valori che vi ho dato e naturalmente come vedete Adobe sotto vi chiede se siete soddisfatti del risultato questa scelta verrà inoltrata ad Adobe per far sì che magari possano fare dei cambiamenti oppure di ricevere apprezzamenti riguardo a questo tipo di filtro a questo punto noi potiamo se la cosa così ci può andare bene magari possiamo fare ok eccolo qua come vedete date un attimino qua si gira il colore sul naso molto molto simpatico eccolo qua abbiamo la nostra la nostra la nostra trasformazione qui naturalmente si può magari interagire e lavorare con il clone ma magari questo lo facciamo un'altra volta così almeno ve lo faccio vedere ah naturalmente la cosa è che è stata sovrapposta quindi come vedete sono stati creati due livelli il primo eccolo quello lì modificato e questo è quello normale quindi abbiamo il vecchietto e il giovane qui per mettere a posto il collo adesso che posso guardare qua possiamo interagire con la Roma magari lasciando un pennello morbido come in questo caso e andare ad interagire ecco qui così ecco a posto vedete ecco quindi voilà così ce l'abbiamo anche a posto simpatico allora naturalmente se il video vi è piaciuto magari mettete un bel pollicione alzato se volete seguirmi iscrivetevi al canale e in più vi ricordo che sono su marcopallotto.it su page su instagram linker in netto i maggiori social ok alla prossima ciao 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 ciao